O è il gioco che non prende gli input? Ma vi giuro, non risponde come vorrei Dovrei prendere uno di quei controller ciccioni Ok, pensavo già di essere morto Ok Boom, bitch Perché sono saltato giù? Perché sono saltato nell'acqua? Dovevo prendere un elicottero, non saltare nell'acqua Bene, abbiamo di nuovo distrutto un villaggio Perfetto Perfetto Almeno non mi chiederanno più di fare le secondarie Heyo! Tutto tranquillo adesso Mi ha ripreso Jonah, in qualche modo? Sembrerebbe La faccia dello scontento No, beh, un po' è colpa tua questa volta Jonah Come cazzo hai fatto a farlo passare sull'elicottero Che sei il triplo di lui Ed eri in posizione di vantaggio Cioè non è che potesse farti un'imboscata Eri su un cazzo di elicottero Potevo avere una famiglia Tutto sarebbe potuto essere diverso Lara Lara, onestamente Prenderemo lo scrigno E fermeremo Dominguez Ma solo perché è personale la cosa Cioè Ma non è neanche tanto motivo per cui Parla così personale, onestamente Cioè non Boh Dai, datemi un altro villaggio con delle secondarie Se avete il coraggio Dai, fatelo Ma devo vestirmi con un'accessa del cazzo Per forza Per venire qua Dove, dov'è lo scrigno? Amaru L'ha preso Ma la morte del sole si avvicina Lo prenderemo prima che completi il rituale Senti, bambino Dovremmo cambiare piano Ti prego Preparati con calma adesso Riuniremo tattici ai guerrieri Grazie Ah, se riunirete i tattici Guarda, sono proprio Wow Proprio impressionata, bambino Ok Oh mio Dio Sono... Oh mio Dio Non mi dire che mi danno le secondarie Non potrei farcela A sopportare la cosa Ok, devo andare lì a parlare con lui Prima posso andare Ma non farlo E fare... Non so qua Guarda questo figlio di puttana Che vuole già darmi una secondaria Guardalo Sto stronzo che mi vuole parlare Vai a cagare Non ti parlerò mai Stai zitta Lara Non voglio sentire i tuoi insight Su come sta andando la situazione Ok, allora Resisti ai danni per un breve tempo No, grazie Non c'è qualcosa di fico Come quello che mi fa uccidere i nemici Uso le piante concentrazione per migliorare i tempi di reazione E rallentare il tempo durante la mira Mmm Rabuca trappolesca Incrementa velocità durante il nuoto Dai, sì Cazzo mene Ingano le fabbrica freccesca Bagliore del serpente Razzi bengala Ma che cazzo... Ah, cioè Ci sono davvero delle abilità Ci sono delle abilità che fanno cagare Ma ad un cagare che... Che non vi dico Dai, sì Stuzio del co... Niente C'ho solo un punto Quindi non faccio nient'altro Inventario invece posso fare roba? Con i completi? Tipo... No Posso solo mettermi questo adesso Porco il cazzo Questa è l'attrezzatura Questo è l'arco Questo fa un botto di danno però, eh Cristo Sì, no Fa cag... Ah, perché questo Completa dei potenziamenti Questo no Ahà Ok Dai, allora Potenziamo Ecco fatto È potenziato Adesso è più forte? Sì, più o meno Pistola AB 45 O la Riverhawk Alla B45 va benissimo PN Bla 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 Qui invece cosa ho preso? Bonelli Nova Edizione dorata Bishop Edizione platino Sono tutti uguali? Edizione platino Dai, l'edizione platino voglio Porco zio Ok Due Precisione Questo cos'è? Il tempo di ricarica Serve sempre nei fucili Capienza caricatore Vai Poi Poi Questa cos'è? La precisione Aumentiamo ancora la precisione Allora E Il danno Bella E Basta Allora Questo fa cagare Questo sembra molto migliore Quindi direi che prendo questo Ah, perché questo è potenziato Giustamente No, ma è comunque migliore Ok Va bene Cavalloni Andiamo Continuiamo Nella nostra missione Per uccidere Tutti Tutte le Le civiltà Che esistono al mondo Dove devo andare? No, guardalo Questo figlio di puttana Che mi vuole darle secondare Vai a cagare Non mi fermerò mai A parlare con te Tu bambino Parlami L'avevo parlato con Nekstil Il viaggio rapido Non sarà più disponibile Fino a completamente La storia principale Sei pronto ad affrontare Kukulkan? Certo che sono pronto Succedendo il piano Aetzli Abbiamo delle idee Ucciu Ucciu dimmi Se volete far scegliere me Sul serio? C'è un altro modo Voi li attaccate frontalmente E io li prendo alle spalle Come un cechino Beh Ogni piano comporta Degli rischi Ma credo che questo Sia il migliore Bene Allora Davvero? Meno male che lo crede Il bambino Allora siamo a posto Prepara le truppe Andiamo Porca troia Oh se non li posso mai soffrire I bambini re O i bambini principi O queste stronzate Non ho mai potuto soffrirli Ciao bambino È stato Molto Bello Conoscerti Ok grazie Jonah non fare stronzate Non chiamarmi dolcezza Ehi Sei frenzonato a vita Jonah Non mi tromberai mai Sono troppo fica Posso cambiarmi adesso? No Non posso cambiarmi Va bene Va bene Dai dentro Dai Bolla E giù di nuovo Finchia quanta roba Oh cazzo Sta anche crollando La terra Possiamo dare una mossa Che sto nuotando Da Otto Ore Tipo Bolle D'aria Grazie Giù Di nuovo Ma che cazzo sono All'interno di un vulcano Cos'è? Oh merda Sembra proprio un vulcano Ok Perfetto È ora di ucciderli tutti Volevo farlo col mio completino Da Tomb Raider Ma dovrò farlo con questo vestito orrendo Eh lo spero per voi Non cremisi Pensavo si dicesse cremisi Non cremisi Non mi dire Davvero Non sapevo che il nemico potesse sfruttare ogni varco Come sto facendo io Avete parecchi varchi sfruttabili Wow Minchia Li sta Sta ammazzando malissimo Qui Cardinalotto Nemici avvistati Cambio rotta verso 1.05 Mi sa che non arriva in tempo Per salvarli Stabilite una zona calda E teneteli lontani dal tempio A ogni costo Ok 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 Giù Andiamo Oh Ci sono Yes Dov'è? Qua Che sta Cantilenando Ah è la regicagna Quando il fuoco cremisi Arde Cerca il tuo specchio Era questo il destino di un orato Carina Carina Sei tu il fuoco cremisi Non capisco la tua La tua lingua Credo che Tu e io dovremmo allearci Per sconfiggere Google Cap Non capisco la tua lingua Dai sono stata rinchiusa qua per secoli Eh Che disagio raga Molto carino Ok L'ucula anche a te Wow Hey Wow Hey Ok Inquietanti Allora Sì Bravi Bravi Spostatevi Non osate Guardami come salta Sta 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 scimmia Bravi Non toccatemi Non toccatemi Mi fate Ribrezzo Non toccate Non toccarmi Fammi lontano Anche tu Grazie No anche tu Molto lontano Grazie E' schifo Puzzate in una maniera Che Ok Ok grazie Dove cazzo vanno Seguila 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 Lara No Non so per niente Quello che sto facendo Ma proprio per niente Non so se è una buona idea Per un cazzo Andiamo Sono da perduto Ci servono rinforzi Ora Inviamo subito rinforzi Merda Merda Eh sono stronzi questi eh Provateci a combattere voi Adesso Che ci sono morto otto volte Nello stesso incontro Tipo l'ultima volta Cazzo stanno portando Un carro armato Oh zio No Ok andiamo E hop Wow cazzo Merda Bravi colpite tutti Non colpite me Wow Wow Sono un po' tantini eh Cazzo No vi ammazzano malissimo Esatto Stiate precipitando Oh shit Wow Che casino Questa sequenza è veramente un fottuto casino Grazie per aver fatto tutto il mio lavoro La strada per il tempo è libera Anche noi ce l'abbiamo quasi Così Senza che vi chiedessi niente Grazie Grazie Non toccatemi però Dio Ok grazie mille Non toccarmi Grazie E' bellissimo che sta parlando In inglese in inglese per loro E' una lingua oscura Da mago tipo Eccomi qua ciccio Sono con te Questo rito Devo completarlo da solo Si stanno sbagliando È tutto sbagliato No Gli spetta di diritto Dacci lo screen No No Non posso Devo proteggere Paetini Bravo Tutti creiamo il destino Non solo tu Tutti noi Insieme Eroe Sta arrivando Prendeteli Vai 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 No Cazzo Lara Ok è ora di uccidere Rurk Miki Vieni vieni Bella E andiamo E chi avrà dato tutto Verrà debitamente ricompensato Benissimo Rurk vengo a ucciderti Voglio essere ricompensato Cazzarola Siamo tutti qui Aha Esco esco Dopo averti ucciso però Oh no scherzavo Ha sbagliato Non ti ho ucciso Oh cazzo Come faccio Cazzo 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 Ok allora Au Ciao La regicagna Brava regicagna Brava Bravo munizioni Grazie Io vado avanti senza di voi O con voi se volete venire con me Dopo che avete finito di stuprare quel cadavere Campo base è scoperto Aspetta 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 Posso sedermi al campo base E cambiarmi Che faccio schifo al cazzo Oh sì che posso Questo cos'è? Ma ok Giacca dei discendenti Commando Cannottiera del desert Infiltrata Esploratrice siberiana Predatrice delle tenebre Pelle spettrale Giacca di pelle Magliata con bottoni Sì Io direi questa Che è la più sexy Andiamo Bisogna essere sexy Quando si Si combatte il male Raga Quando si cerca di Evitare l'apocalisse Sempre essere sexy E Su Adesso vi immaginate se non mi riconoscono più Perché mi sono messo Un altro vestito Forse non li uso più È per quello che Oh che posso cambiarmi Come è morto Anche Rurk Come è morto Rurk Oh Ma era quello Dentro il caro armato Rurk E io non lo sapevo Tipo Oh sì che sono morti Tutti È finita È finita ragazzi Sto arrivando a prendervi Gli ultimi di voi Che rimangono Renderanno i propri figli orfani No Che cazzo fai Lara Fanculo Caduta giù così a random Non ho fatto niente Gioco di minchia Che mi vuole trollare Che cazzo fai 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 Grazie a tutti.